Diamo la corona in memoria a tutti i caduti dei video poveri e in particolare di Simone Mazzi caduto nell'avventimento del suo dovere 18 anni orto. I vigili del fuoco di Arezzo hanno così ricordato Simone Mazzi, il collega che perse la vita durante un soccorso 18 anni fa, con una cerimonia al monumento dei caduti del corpo che si trova nel parco a pochi passi dalla caserma e poi nel luogo dell'incidente a Palazzo del Pero con un'esercitazione SAF. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio e non vissuto. Simone Mazzi morì il 28 gennaio 2003 durante un intervento di soccorso per il recupero dell'autista di un'autocisterna di 50 metri cubi di GPL finito fuoristrada lungo la strada statale 73 all'altezza di Palazzo del Pero. Per questo intervento a Simone Mazzi è stata conferita la medaglia d'oro al valore civile. Oggi alle 13, proprio in ricordo del collega, tutte le seti dei vigili del fuoco di Arezzo hanno così suonato le sirene.